Cosa vuoi fare? A me stare alla catena senza sapere dove andare e respirare la malattina. Aspetti ancora un sorriso che ti permette di sbirare, che ti fa sentire vivo e nella tua linea di continuare. Ma ti piace nel fuggire lontano e fermare chi si è permesso di regare ad un muro le tue speranze per provare qualcosa a se stesso. Cosa vuoi fare? Così per un motivo che sia la libertà di volare solo per sentirsi vivo. Cosa vuoi fare? 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 Cosa vuoi fare?